Il fumo fa male, perché non smettete? Ormai il danno è fatto, cosa vuoi che cambi? Cambia, cambia. Se smetti di fumare, già dopo 20 minuti diminuiscono frequenza cardiaca e pressione sanguigna. Dopo 12 ore, i livelli di monossido di carbonio nel sangue ritornano normali. Dopo 2-12 settimane, i polmoni e la circolazione sanguigna funzionano meglio. Dopo 1-9 mesi, niente più tosse e affanno. Dopo un anno, si dimezza il rischio di infarto. Dopo 10 anni, si dimezza il rischio di tumore ai polmoni e si riduce il rischio di altri tumori. Dopo 15 anni, il rischio di infarto e ictus diventa uguale a quello di un non fumatore. Vabbè, ma adesso sono giovane, posso fumare un altro po'. Eh no, perché prima smetti e più aumenta la tua aspettativa di vita. Che cos'è il fumo in confronto a tanti anni di vita in più?